Oggi potrò fare soltanto Telebridge Per chi non sapesse cosa Telebridge sia È praticamente un ponte ancora più luce di Godbridge E Godbridge è già veloce di suo Perciò sììì Ok Grigio 6 è caduto, bravissimo Ah so per cadere pure io, no 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 Ok riproviamo Spittelli Fantastico per uno spittelli in mezzo Dimmi che non m'ha visto Dimmi che non m'ha visto Non dire nulla in chat, non dire nulla in chat No Shhh No Menti Tu menti Perchè Non griffarmi il ponte Dai su vieni giù Ok allora vengo io lassù e ti butto nel vuoto Ottimo lavoro Penso che si era scordato che esistono tre dimensioni Anziché due basta Non posso pezzare blocchi là Funzionato Se in caso mai vedete un Telebridge Nelle Bedworks Sono God Breacher Non urlate in chat Telebridge Oh God Breacher Perchè se no Gli ho ruminato la giornata Sono di buono Dicevo Gli ho ruminato la giornata Sono di buon umore E gli fate passare la voglia di giocare Completamente Ciao bianco Combattimi C'è che c'è stata di ferro Non ce l'hai più Yeah you hack Thank you Guarda non per di knockback No Bruh È giallo Può venire giù No C'è anche luce happiness Ma io non ho Ma lui c'è anche protection No Giallo Quante fireball Che ha Poca vita Ok è morto Dai vieni giù Amore Bravo Io vai giù Ne ho voto MLG Rush Io traclicco Let's go GG Comunque Spero vi sia piaciuto questo video Se vi è piaciuto Iscrivetevi Entrate al mio server Discord E ci becchiamo la prossima volta Ciao